Grazie. 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 Guarda, c'è la fuzgna di cucciola a cucciola, eh? C'è un lampo che non c'è il cammino. Dai, lì, lì. Dai, lì, lì. Io la parlo a tutti. Cucciola a cucciola. Capisci? Trampole qua. Trampole qua. Trampole qua. Le sale... Le sale... Non lo struiscono. C'è il quale è il minuto fino. E' più fatto. E' dei mani che stai... Vi ha avuto il dettaglio. E' un po' di retta. 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 grazie a tutti 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 grazie a tutti